Rimini Riders production presents A questo punto l'unica cosa da fare è fare un po' di surf Se io sono il migliore a stare su Toji sveglia questo e non ce l'ha mai visto Surf Andiamo a fare surf Cazzo è vero che fa le onde! Dai! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.